C'è ancora un dato completo e direi definitivo, manca, manca e stiamo aspettando la questione di, credo, ore. Bisogna scrutinare ancora una sezione. Manca ancora una sezione, quella di Via Cuzzi, Rebbio, la numero 50. Quindi magari potrebbe diventare il sindaco la persona che stiamo vedendo? Con una sezione, no, una sezione non mi sa che non basta. Direi che non basta. Roberto Ducci è qui con noi quest'oggi, Comitato Assemblee Popolari. Roberto, ciao intanto, grazie di essere venuto, buongiorno. Si stava parlando di queste elezioni, ovviamente ieri abbiamo iniziato il commento post con i candidati sindaci, oggi tocca a te. Partirei, Roberto, se sei d'accordo però, da questo pasticciaccio, chiamiamolo così, di tantissime, sono forse più di mille le schede comunque contestate, voti non validi. Tu mi dicevi una cosa, che molti di tuoi amici hanno detto, io ho votato te, però ho votato anche un altro candidato, sindaco. Ovviamente ha voto nullo. Cosa ne pensi? Sì, allora, va bene, risaluto tutte. Ringrazio per l'invito. E' successo che appunto ho incontrato diverse persone, non per forza amici o amiche, che mi hanno detto che hanno fatto il voto su un sindaco e poi hanno messo me come preferenza. Ora, sapete che noi non cercavamo il voto, però è un problema questo numero, mille persone che... Circa è, sono forse anche qualcosa di più, è un numero impressionante, come impressionante, Roberto, anche il numero di chi non è andato a votare. Esatto, questo è un dato secondo me rilevante, sul quale non ci siamo mai indagati da quando si parla di forte astensionismo. Eh, ma questo è il record storico, perché 44 e 30% per Como vuol dire che, insomma, praticamente la più che la metà della città ha ignorato le elezioni. Non ha potuto, poi vabbè aggiungiamoci quello che volete, erano via, non lo so, però, eh? Sei d'accordo? No, sì, sì, infatti mi chiedo quale forma di democrazia adesso esiste, no? Ma non solo qui a livello amministrativo, anche le politiche del 2017, ci siamo trovati con Salvini che aveva preso il 17-18%, no? Quindi rappresentava un italiano, due italiani su dieci. È democratico? Eh, sì, perché le elezioni sono fatte proprio per far sì che gli italiani, in questo caso ovviamente, Come e Comaschi, si possano esprimere. Se poi dopo, come dicevamo anche ieri, uno non va a esprimere quello che è un diritto, è chiaro che dopo ti puoi anche lamentare, però effettivamente è difficile poi dire, eh sì, ma ecco. Purtroppo questi sono i due dati incredibili, Roberto, dell'astenzionismo, che credo che ovviamente va sottolineato. I tantissimi errori, le contestazioni, le schede nulle, le schede, voti non validi, tu ti aspettavi sinceramente di essere qui il mercoledì mattina e non avere ancora un dato definitivo? No, no, assolutamente. È veramente una cosa strana, eh. Sì, se posso tornare su quello di prima, scusami, che è un mio pensiero. In realtà credo che chi non vada a votare, giustamente tu hai detto, decide di scegliere, di non esercitare il proprio diritto al voto. In realtà esprima comunque un parere, non è un voto che è possibile mettere su una scheda elettorale, però sta dando un messaggio che sia di disinteresse, che sia di sfiducia, che sia di inconsapevolezza proprio sul fatto che esistano le elezioni il 12 giugno. Però sono tutti elementi che vanno considerati e messi insieme, bisognerebbe fare un bel ragionamento su questo. Sul fatto che poi in tre giorni non ci sia ancora un risultato effettivo finale, dipende tanto... A me avevano chiamato chiedendo se conoscevo qualcuno che facesse il presidente o la presidenta di seggio, perché mancavano e dopo mancavano gli scrutinatori. Sì, sì, in effetti, è stata una sorta di corsa all'ultimo minuto, Loredana ti saluto, ciao anche a Mimma, Luisella, Clara, ciao Clara Marinella, Corrado, ha un fa un casotto, dice... E in effetti a Taghere Zunna, è stato veramente un casotto. Ecco, però quello che dice Roberto, ieri Andrea Bartolice ci ha detto più o meno le tue stesse cose, ecco, che c'è stata una sorta di corsa ai presidenti di seggio, Roberto, che devono comunque essere preparati. Perché è vero, le contestazioni poi sono molte, cioè, quando ti trovi tanti cose sulle schede, magari non è sempre così pulito e lineare, magari un segno in più, un segno in meno, il voto su un candidato, in realtà poi su un altro, cioè, bisogna essere veramente preparati, giusto? Sì, io ho fatto due volte, due o tre volte lo scrutinatore. L'hai fatto lo scrutinatore? Effettivamente è impegnativo il presidente di seggio, soprattutto quando si avvicinano dei voti importanti, è molto sotto pressione, deve stare attento, c'è anche il vicepresidente, che è un ruolo di aiuto, gli scrutinatori devono essere comunque preparati un minimo, no? Esatto. Non so, io appunto non sono andato direttamente ai seggi, quindi non so come si siano sviluppati. Quando sono andato per votare, il presidente di seggio mi è sembrato preparato, ecco, io avevo un problema sulla scheda elettorale che l'indirizzo era diverso, ha chiesto a me cosa dovevamo fare e io gli ho chiesto, beh, pensavo me lo dicessi. Esatto, esattamente, proprio così, sì, sì. Anche a Cosima un saluto, anche a Mirella dice, allora Marco, chi abbiamo come sindaco? È una domanda. Dei tempi, è un'ipotesi, sei d'accordo? Potrebbe esserci. Certo che però, Roberto, se si dovesse davvero sforare ulteriormente, votare a luglio per un ballottaggio... Comodo. È, comodo. Bello comodo. Bello comodo, insomma. Che cosa possiamo dire? Tu hai detto, noi, vabbè, non chiedevamo il voto, non abbiamo fatto la campagna, vi siete presentati, no, Roberto, per farvi conoscere, tu hai spiegato anche le tue idee, ovviamente nel corso dei nostri incontri, è andata come vi aspettavate? Pensavate di più, pensavate di meno? No, pensavamo a una forte disaffezione degli elettori, in aumento, avevamo ragione. Tra noi, tra l'altro, nel gruppo si era pensato di fare un altro tipo di attività all'interno di questa campagna elettorale, che aiutava a non andare a votare. Nel senso che, non andare a votare ci sono tanti motivi, nel senso che puoi andare a votare consapevolmente, come puoi andare a votare inconsapevolmente, lo stesso non andare a votare. Per noi è fondamentale che la gente prenda una posizione sulla politica e, secondo noi, l'ha presa. Dal 2008 a oggi è in continuo momento questo fenomeno. Quindi tu dici che questa è una consapevolezza, secondo te? Questa è una consapevolezza perché se c'è una mancanza sul territorio e anche a livello nazionale della politica, sarà la società civile che cerca di sopperire a questa mancanza. Quando non riesce e non ha più gli strumenti che gli vengono dati per migliorare la situazione, si avvicina un momento storico che è importante, dove la società civile prende in mano la situazione. E più ci avviciniamo, più aumenta questo dato, più ci avviciniamo a quel momento storico. Se si studia la storia è stato... non c'era il suffragio universale, però le dinamiche erano molto, molto simili. E noi per questo ci siamo presentati, noi ci siamo già, siamo già pronti, sappiamo già cosa fare. Quindi hai ottenuto, salutando anche tanti altri nostri ascoltatori che ci stanno... Ciao Francesco, un saluto a Clara, anche a te. Ecco, c'è Giancarlo che dice Io ho votato come italiano all'estero, ho ricevuto il tutto via posta, una settimana prima è stato semplice votare. Non potrebbe essere un'alternativa a Giancarlo? Beh, intanto ti facciamo un saluto e un complimento perché in effetti è un senso civico importante. Ciao anche a Giuliano, Clara speriamo di trovare una soluzione, la soluzione speriamo di trovarla oggi il prima possibile. Anche a Fiona la salutiamo, buongiorno signori e signore. Dicevo, oggi con Roberto Ducci stiamo un po' facendo il bilancio di Comitato Assemblee Popolari che lui rappresenta. 112, se non sbaglio, sono i voti che hai... Francesco, mi conferma? Deve vedere. I dati definitivi? Ieri ma scritto più di 130. Ah, più di 130. 131. 131. Allora, 131 voti per la sua lista, Roberto. 131 voti, percentuale 0,43%. Ovviamente non sono percentuali che ti possano portare all'interno del Consiglio Comunale. prossimo. 131 voti... E l'abbia sfangata. Però ecco la tua presenza, la vostra presenza. Senti, ti aspettavi questo ballottaggio che si sta profilando? Ripeto, manca ancora una sezione, quindi non possiamo dire che è ancora ufficiale, ma diciamo semi-ufficiale. Te lo aspettavi? Sì, ne avevamo parlato anche con gli altri. Sì, era evidente. Sulla Lega era poco affidabile ancora come situazione avendo come uscente quella coalizione insieme alla lista di Mario Landriscina. Strano che chi è uscito da quella coalizione abbia ricevuto ancora qualche voto. E questo fa capire un po' i problemi, no? Cioè, è palese che politicamente non sono stati in grado di amministrare una città. Se la loro attività è quella politica, come è possibile che riprendano un voto? È come un medico che ha sempre, nei suoi cinque anni, ha massacrato le sue vittime e gli propongono un altro lavoro come medico, quando si ripetende. Tu dici, tu dici, eh beh, però effettivamente sì, no, ci sono stati dei voti. Tanto per dire, adesso stavo citando prima, sia gli assessori uscenti della Giunta, che sono ormai in scadenza di mandato, beh, i voti sì, sono stati sicuramente non tantissimi. Forse quello che ne ha presi di meno è il vice sindaco, tra l'altro Adriano Caldara, che si è fermato, mi sembra, a 60, 62, 63 preferenze. Come hanno fatto a votarlo anche solo una volta? Ecco qua, 64, 64 preferenze, sì, esattamente. Quindi questi sono i dati che arrivano, ripeto, dalle varie sezioni, ne manca una sola per quanto riguarda il dato definitivo. Dicevo, tu ti aspettavi Minghetti e Rapinese. Una crescita di Rapinese rispetto a cinque anni fa è cresciuta ulteriormente. Positivo perché è una lista civica, è esattamente quello che la società civile sta cercando di fare attraverso gli strumenti che ha a disposizione. Che rapporto c'è con Rapinese, tuo personale? Ma in realtà siamo... Amici? No, beh, adesso, nel senso, un amico è un'altra cosa. Però andiamo d'accordo, ci rispettiamo, abbiamo posizioni praticamente opposte, no? Forse ci sono sentiti ieri sera, lui mi ha detto, talmente opposte che forse a volte si toccano. Soprattutto nei modi nel... E mi fido di Rapinese... Come sta, come sta, Rapinese? Visto che l'hai sentito. Era con sua madre ieri sera e parlavano di me perché la mamma... Ho un fan club, ha detto all'interno del... Della famiglia. Della famiglia Rapinese. E gli ha chiesto come stava il ragazzo della lavanderia. Perché sono un po'... Bello, bello. Va bene, Roberto. Senti, a questo punto l'altra domanda che ci viene spontanea, ovviamente, l'ho fatta anche ieri ad Adria Bartolice, è in vista del ballottaggio, ripeto, quasi certamente Barbara Minghetti e Alessandro Rapinese si contenderanno alla carica di sindaco di Acomo dei prossimi cinque anni. Ai tuoi elettori, ai tuoi amici, ai tuoi sostenitori, a coloro che comunque vi hanno dato 130 voti, cosa ti senti di dire? Tu fai un'indicazione, dici o no? No, sentitevi libere di fare quello che volete. Posso dire solamente che a livello personale, mai e poi mai con il PD, cioè parliamo di un partito che ci ha portato allo stato attuale di oggi, come tutti gli altri partiti, ha appena mandato delle armi in una zona di guerra, è venuto Renzi a Como, parlano di giovani, è venuto Renzi che ha messo in pratica il Jobs Act, ha smantellato il diritto al lavoro, i giovani... Se Renzi non è più del PD, eh? Sì, no, però capisci che... Giusto per la cronaca. Però era con il braccio alzato della Minghetti, teneva il braccio alzato della Minghetti. È venuto Letta. È venuto anche Letta, sì, certo. Sì, sì, segretario del PD. Che ha un percorso politico non da sottovalutare. È venuto Salvini e ha parlato di disarmo. Salvini ha parlato di disarmo. Salvini ha parlato di disarmo, eh? Colui, tra l'altro, che ha portato avanti la legittima difesa. E sono stati votati... Il PD ha preso il 20%. Il PD è il secondo partito dopo quello di Rapinese, che di fatto al momento in effetti è il primo partito. È una lista civica, ok? D'accordo, ma il primo partito... Allora, 20 e 42, mi dice Montalbano. Sì, stiamo vedendo la grafica. Il Partito Democratico, esatto. Alla 20 e 42. Quindi, diciamo, secondo partito in città. Il primo è quello di Rapinese, sindaco Francesco, sindaco, al 26,80%. Quindi questo 7.641 voti. Ecco, diciamo che effettivamente, Roberto, chiudiamo il nostro incontro di oggi, ci sono dei dati veramente bassi. Se tu pensi che chi ha vinto questo primo turno, Barbara Minghetti, ha portato a casa 11.000 voti, siamo 72.000 elettori possibili, sono dati bassi, è veramente... Sono veramente... Eh beh, è uno su sette. È uno su sette, esatto. È uno su sette. 7.000 voti per, appunto, la lista rapida. Insomma, siamo veramente bassi. Senti, per chiudere, tuo saluto ai nostri telespettatori, radioascoltatori, Roberto Adducci. Vi saluto, faccio un annuncio, una richiesta. Come no? Siccome abbiamo un progetto in mente e si realizza su un terreno verde, se qualcuno avesse dei terreni disponibili che può concedere in zona... Zona dove, Roberto? A Como. Sarebbe bellissimo Sagnino, quelle parti. Zona Sagnino, Ponte Chiasso, Sagnino? Anche sul lago, però, va benissimo. Iniziamo con un progetto per ampliare, fare una questione di comunità alternativa, reale, concreta. Ok. Se ci fosse... E allora va bene. Dai, aspettiamo se qualcuno si faccia avanti. Ti può contattare. Roberto Adducci. Tanto ti saluto e grazie di essere venuto questa mattina. A voi, grazie. Grazie, Roberto.